ecco e mi sento anche di fare un video per le persone che sono più scettiche a volte si sente dire ma il farmaco è un qualcosa che deve essere venduto c'è un interesse sotto non importa se fa bene o se fa male si spinge in questa direzione senz'altro ci sono degli interessi però vorrei farvi ragionare anche su due cose una è il peso che ha a livello economico la persona che ha delle malattie importanti un'invalidità grave a livello sanitario assistere una persona che un ictus che ha un'insufficienza cardiaca importante e non può per esempio lavorare o ha bisogno di cure impegnative o cure intensive hanno dei costi importanti quindi è bene passare alla prevenzione non c'è niente di male in questo perché è un costo che ci accogliamo tutti noi cittadini come società quindi io devo sempre prevenire queste cose qui esattamente come si prevengono i tumori che si sa che incidono di più sulla popolazione dall'altra parte però vorrei veramente sincerarvi che io adesso qui faccio parte di una comunità scientifica stiamo davvero vagliando studio per studio e discutendo la bontà la serietà degli studi ci sono molti dei medici che hanno partecipato attivamente a questi studi italiani europei mondiali alcuni sono nonostante siano stati pubblicati li abbiamo un pochino scartati perché abbiamo valutato che scientificamente c'erano delle cose da poter migliorare quindi le cose non stanno andando avanti senza freni senza buonsenso senza un'etica deontologica anzi proprio sui nuovi farmaci gli stessi professori che coordinano il corso in cui sono hanno ribadito tutti noi medici di dire stiamo calmi comunque vediamo i risultati sono promettenti però vanno fatti altri studi su su altre persone eccetera quindi abbiate fiducia che quando saranno pronti vorrà dire che ci sarà stata veramente un'adeguata sperimentazione su un adeguato numero di persone e saranno sufficientemente sicuri ed efficaci